Benvenuti, cari followers. Se il modello numerico europeo, ECMWF 9 km, si affianca al modello americano, indica una situazione molto forte e forti nevicate in Italia, con una forte ondata di freddo che consentirà abbondanti nevicate e a quote molto basse, con notevoli quantità di pioggia che può raggiungere il livello di formazione torrenziale, e la situazione si intensificherà a partire da domenica 26 febbraio 2023, e la buona notizia è che il modello europeo prevede che la neve cada anche nelle regioni del sud Italia, l'isola di Sicilia, le regioni della pianura centrale, e anche l'estremo nord, e quindi una vasta depressione aerea polare che interesserà l'Italia nel prossimo periodo e si protrarrà almeno fino al 10 marzo 2023, e una serie di forti perturbazioni aeree e la quota più della pioggia, della neve e del freddo saranno in Italia, quindi questo tempo caldo e stabile non dovrebbe ingannarti, perché l'inverno sta arrivando, e bug e maggiori dettagli durante le prossime ore.